Salve ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video di Guido Tramontano. Scusate per la mia assenza su YouTube ormai da una settimana a questa parte, ma purtroppo è tornato quel periodo dell'anno in cui mi vedo ultra impegnato all'università a causa di esami. Ovviamente questa non è una scusa, cercherò di migliorare nelle settimane a venire anche se stiamo andando incontro alla sessione estiva, quindi fatemi un bel in bocca al lupo. Oltre ciò comunque non perdiamoci in chiacchiere, passiamo al video di oggi che elenca 4 dei migliori giochi per Android che potete andare a scaricare attualmente gratis sul Play Store. Sono tutti per l'appunto gratuiti, facili da scaricare e sono sopportati da ogni sistema operativo Android. Di conseguenza, qualsiasi sia la vostra versione Android, potete andare a giocare a questi titoli che sono per elencarvi e che sono usciti da un mese circa a questa parte. Non perdiamoci in altre chiacchiere e quindi iniziamo il video. Prima però tengo a sottolineare il fatto che in descrizione troverete tutti i giochi linkati e non solo, perché è iniziata una collaborazione con dei ragazzi italiani che hanno creato un'app di nome Aowand, il nome è un po' strano ma non vi preoccupate linkerò anche questa qui in descrizione. Ebbene su questa applicazione riuscirete a ricevere in tempo reale qualsiasi mia notifica su YouTube che sia la pubblicazione di un nuovo video o che sia la pubblicazione di un post o sondaggio. Quindi vi invito caldamente a scaricarla e ad utilizzarla, qualora per l'appunto non volete perdervi nulla del mio canale YouTube. Iniziamo quindi col primo classificato della nostra classifica da quattro postazioni di videogiochi per Android partendo dal più bruttino al più assolutamente fantastico, al più bello, al più immancabile. Il primo titolo che andiamo oggi ad elencare è Data Wing. Ebbene Data Wing è un gioco che si incintra su un personaggio informatico che ha una forma di freccia e che deve portare delle informazioni da una zona all'altra. Queste informazioni però devono passare attraverso circuiti che il gioco andrà a creare di livello in livello e con difficoltà sempre maggiori. Il livello che state vedendo qui nello specchietto accanto a me è il secondo livello, praticamente il base. Ovviamente però sono andato avanti e ne vale assolutamente la pena perché si iniziano molto ad intensificare i circuiti andando ad aumentare la complessità del gioco stesso. Semplice, facile utilizzo, poco impatto sulla batteria ed è un passatempo nel istante in cui siete magari senza linea internet sul vostro smartphone e volete perdere un po' di tempo. Il secondo gioco invece è diventato assolutamente una droga. Stiamo parlando di Orbi, anch'esso gratuito sul Play Store e che è uscito da pochissimo tempo. Ho già sfrancato praticamente tutti i bottiglini del Play Store arrivando a 4,7 stelle di graduatoria. Il che significa che è stato molto apprezzato dagli utenti. Ebbene, di che cosa si tratta? Si tratta di un gioco tap-tap. Nel senso che per avanzare non dovete fare altro che far tap sul vostro display quindi di semplice utilizzo per ogni età e per ogni smartphone. Cosa molto interessante però è il fatto che praticamente siamo questo peluche che deve avanzare su vari pianeti e che deve farlo con nostro ausilio. Questi pianeti numerici, tra virgolette, sono circondati da delle difficoltà che sono mostri che possono essere razzi all'aumentare di livello. Io addirittura qui nello specchietto a me vario dal livello 2 fino al livello 10 e vi mostro per l'appunto come va ad aumentare l'intensificazione di difficoltà per l'appunto nell'aumentare di livello. Ce ne sono 500, non vi dico ovviamente dopo all'incirca il livello 50 che difficoltà c'è. Ed è davvero, davvero molto interessante e da scaricare a tutti i costi anche perché alla grafica è senza altro mozzafiato e molto ovviamente minimal per quel che concerne tutto il ramo impostazioni. Il terzo gioco di cui andiamo a parlare adesso invece è un po' più impegnativo per i nostri smartphone e sto parlando di Need for Speed No Limits finalmente uscito in maniera ufficiale tutti i titoli che c'erano precedentemente erano un po' fake ebbene questo è il vero Need for Speed di facilissimo utilizzo perché la macchina accelererà da sola durante le corse e non ne dobbiamo fare altro che fare un tappo a destra o a sinistra per sterzare. Nel video che inserirò qui a tutto schere ma potete vedere come all'inizio della partenza praticamente io mi schianti sulla destra perché praticamente sto lì col tap quasi come se volesse accelerare in realtà non ce n'è bisogno e quindi effettuo la mia corso con il famosissimo NOS NOS che è N2O che praticamente va ad impattare sulla velocità della macchina il famosissimo Need for Speed non potevano metterlo. L'ultimo titolo di cui voglio parlare è un titolo che non potete assolutamente non scaricare sul vostro smartphone anche perché è gratuito ed è uscito solo due settimane fa. Non sto parlando di Harry Potter che non mi piace assolutamente come gioco mi è uscito anch'esso poco tempo fa sto parlando invece di Dragon Ball Legends ebbene è stato rilasciato in maniera ufficiale ed è un gioco assurdo a prescindere dal fatto che creerete una vostra squadra di guerrieri che potrà poi giocare in PvP praticamente contro altre squadre ma a prescindere da ciò la grafica è mozzafiato il gioco è fatto benissimo per smartphone vi basteranno pochi tappi per combattere contro gli avversari e soprattutto si risegue praticamente tutta quella che è la storia di Dragon Ball nel particolare Z dove ovviamente si partirà con i primi personaggi ci sarà assegnato inizialmente Gohan Gohan in versione adulta però con la coda cosa mi è vista nel cartone però vabbè piccolizze ebbene poi qual è lo scopo del gioco è seguire la storia di Dragon Ball Z ci saranno degli sketch da film praticamente assurdi che riseguono il cartone ovviamente ebbene questa praticamente guerra che si inizia tra guerrieri porta a scaricare sempre nuovi personaggi inizialmente infatti Goku non lo praticamente si possiede poi lo si va a scaricare e lo si potrà inserire in squadra lo scopo sarà poi quello di aumentare il livello di questi personaggi scaricare nuove skill cioè nuove mosse e andare a scontrarsi con squadre sempre più forti sia a livello storico sia a livello PvP praticamente si riprende tutto quello che è lo schema da Playstation ci sarà la possibilità di ricaricare l'aura di effettuare skill praticamente a prescindere da quello che è il livello di aura o non quindi effettuare Kamehameha iniziare a effettuare combo fare combo più personaggi di squadra quindi davvero davvero imperdibile ve lo consiglio a tutti i costi ovviamente il link sempre qui in descrizione spero quindi che il video vi sia piaciuto e che la classifica vi abbia portato di nuovi giochi sul vostro smartphone e che spesso volentieri magari i giochi che vado a dirvi spero non li conoscevate già se conoscete altri giochi interessanti ovviamente scrivetemelo qui in descrizione come sempre ci vediamo nel prossimo video e vi auguro una buona domenica ciao ciao ciao